Saldo, il giorno 3 aprile 2019. Sono alla stazione Binario Unico. Sì, mi piacciono le stazioni con un solo binario. Oggi ne ho viste due, quella di Brenna Alzate e Inbrianza. E quella che sono tuttora, sempre a Binario Unico. Eccolo qui che si vede di fronte a me il binario. Sono al lago di Como, alla sponda lecchese, esattamente il piccolo paesino che si chiama Olcio. Da me è tanto piaciuto in epoca passata. Sono ritornato oggi, dopo un po' di assenteismo, a questa fermata del treno. Ecco che sta per arrivare il treno a velocità. Mi allontano dalla linea gialla. Questo treno va a Sondrio. Che velocità! Che velocità! È andato verso Sondrio, Tirano. Ecco che adesso arriva poi il mio treno. Che ritorno a Lecco. Lo stanno annunciando. Trenore nord, delle ore 18 alle 22, proveniente da Sondrio e diretto a Lecco, arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti. Ritardo di 10 minuti. Comunque arriva sicuramente, c'è un binario solo, non devo fare il sottopassaggio. E mi piace questo clima di, come si può dire, pittoricamente. Facciamo letteralmente, facciamo letteralmente, di Alessandro Manzoni, dei Promessi Sposi. Proprio stasera vado a vedere la prima parte dei Promessi Sposi riguardo Lecco, in un cinema dalla periferia di Milano. Va che bello questo punto qua, con le nuvole basse vicino alla ferrovia. E' un punto notevolmente interessante, con le montagne che cadono a pendio direttamente nella parte lacustre del lago. Bellissimo, poi un accenno di primavera, poi c'è quella cascinetta lì dove ci sarà un orto da fare successivamente. Vi saluto dal paesino di Olcio, lago di Como. Ora ritorno a Lecco, città, poi Milano.